Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento il wireless charger di LG il più piccolo caricatore senza fili, praticamente a induzione sul mercato sul mercato è un po' sbagliato perché abbiamo appena chiesto pochi istanti fa al commerciale di LG quando arriverà in Europa e purtroppo non ce lo sa dire con precisione in teoria a seconda metà dell'anno siamo sui 59 dollari come prezzo nel mentre che ci siamo vi mostro sia la versione nera che avete appena visto sia il wireless charger ORB per il Nexus 4 noi diciamo per il Nexus 4 ma è in teoria disponibile per qualsiasi device è scompatibile con la tecnologia QI che lì no Grazie a tutti